Sono stati liberati pescatori di Mazzara del Vallo dopo 108 giorni di prigionia nelle carceri libiche sotto la sorveglianza del generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica. A dare la notizia lo stesso presidente del Consiglio Conte volato a Bengasi insieme al ministro degli Esteri Di Maio per il passo conclusivo che porta alla liberazione dei 18 pescatori. Finalmente aspettavamo questo regalo di Natale, esultano i familiari. I protagonisti di una lunga e faticosa protesta anche davanti al Parlamento. La partenza verso la Libia ha di fatto stravolto l'agenda del presidente del Consiglio impegnato nella stesura delle nuove restrizioni per Natale nel confronto con i partiti di maggioranza per la verifica di governo. Slitta questa sera, forse alle 19, l'atteso faccia a faccia con Renzi ma dopo la liberazione dei pescatori Conte si siede al tavolo con qualche carta in più da giocare nella complicata partita con lo scomodo alleato.